Ma io per quello credo che sono furibonda. Lei furibonda giustamente da mamma e da persona che ha detto io. Ma da italiana più che da mamma. Perché mia figlia ha fatto il suo percorso ed è contenta. Come italiana no, io non sono contenta. Non sono contenta. Eppure noi siamo profondamente arrabbiati. E forse questa arrabbiatura mi rendo conto che ci fa essere a me forse probabilmente di più, magari più aggressivi. Però non è supponenza, non è presunzione. È proprio arrabbiatura, indignazione. Sì, però sa che cosa si dice? Che la vendetta è un piatto che si consuma freddo. Non bisogna essere troppo di pancia. Bisogna ragionare. Bisogna ragionare.